Un gelato sospeso a Monte Stanza Vino diventa il gelato della discordia. L'amministrazione comunale, in accordo con CNA e con Fartigianato, ha aderito recentemente alla campagna nazionale Salva Mamme, che partendo da Roma ha esteso questa singolare iniziativa del gelato sospeso in tutta Italia. Il meccanismo è come quello del caffè. Si consuma il proprio e se ne pagano due o quanti se ne vuole per chi, in questo caso un bimbo, arriva dopo di noi. Un piccolo passo, è un metodo per aiutare chi forse è più in difficoltà o comunque per far sorridere un bambino. Per noi era fondamentale vedere come questo tipo di progetto attecchiva sulla comunità per dare il via poi a progetti più sensati, più strutturati, come potrebbe essere una spesa sospesa, un libro sospeso, poi insomma da vedere. Ed era il banco di prova. Un modo per socializzare e combattere la crisi che evidentemente non è piaciuto a tutti i savinesi. Sui social network infatti hanno attaccato, secondo noi ingiustamente, l'amministrazione comunale. È spiegabile, è spiegabile perché non è un'iniziativa che coinvolge tutti, nel senso che non si è obbligato a lasciare dei spiccioli, se non li vuoi lasciare in più non vi è una spesa da parte del comune, nel senso che è tutto stato fatto di Tascamia e dai singoli operatori, da CNA e con Fartigianato. Quindi insomma non ci sono state spese per nessuno. E trovo ridicolo appunto fare una polemica sull'iniziativa che ha solamente come scopo far sorridere un bambino. Polemiche a parte, i gelati sospesi già ci sono e aspettano soltanto un bimbo che li vada a gustare. Sì sì, è un'iniziativa che la gente ha apprezzato molto sin dall'inizio e sono rimasta sorpreso per dire la verità. È l'aiutarsi che una volta era naturale e ora purtroppo bisogna fare queste iniziative. L'iniziativa andrà avanti per tutto il mese di agosto nelle quattro gelaterie che hanno aderito. Si va nelle quattro gelaterie artigianali del nostro comune che sono Carlo e il bar Castiglia nel centro storico, il Madison alle fonti o il bar Babylon Montagnano. Si lascia quanto si vuole donare da 50 centesimi ai 5 euro e il gelataio darà con questi soldi un gelato al bambino che entrerà successivamente. Si può anche decidere a chi donarlo, quindi se la singola persona ha delle pretese o delle richieste lo può fare tranquillamente.